Ti chiederò alcune domande da parte di Cristian, che desidera sapere come posso evangelizzare di più. No, di più, ma anche come evangelizzare. La gente è tutta capre, dice, incontro solo capre e non riesco a evangelizzare. Cosa faccio? Sembrano tutti veramente già entrati in un matrix, con la mente fissata sulle cose del mondo, e non riescono a collegarsi con Gesù, a ricevere il Vangelo. Dice, cosa faccio? Quindi ci chiede dei suggerimenti, dei consigli su come affermare la gente, parlare con la gente. La gente non vuole ascoltare. Come si fa? Questo interessa i fratelli evangelizzatori. Amen. Speriamo di essere tutti. Ti leggo il messaggio di Cristian. Ciao a tutti amati fratelli di Radio Blast. Ultimamente ho un pensiero che mi frulla nella testa e che credo frulli a molti cristiani. Come posso evangelizzare di più? In questo mondo dominato dal principe del male e dai suoi spiriti, aprire il cuore delle persone a Gesù sembra diventato quasi impossibile. Come tutti vorrei salvare quanto più pecorelle smarite possibile, ma l'ultima parola è sempre del singolo individuo, se seguire o no la parola del Signore. Ho paura di diventare una vergine senza olio, e non voglio. Ma la realtà è che evangelizzare, almeno qui in Italia, è l'arte più sublime che esiste. Qualche consiglio per riuscire ad aprire più menti e più cuori alla salvezza eterna? Io non possiedo mezzi tecnologici o di trasporto per diffondere la parola di Dio, ma solo Cristo dentro di me quando incontro le persone. Sembra che né le parole né i fatti servano a qualcosa. Tutte queste delusioni fanno male, e questo problema di evangelizzazione mi affligge da un po'. Pare che una volta sotto il gioco del diavolo, uscirne e seguire Gesù Cristo sia un'impresa troppo ardua per la maggior parte degli uomini. Grazie dell'attenzione. Dio vi benedica assai e possa la grazia del nostro Signore Gesù aiutare le anime di coloro che lo accettano. Alleluia. Amen. Amen. Allora, Angela, tu ricevi un sacco di complimenti, perché i fratelli scrivono, e dico, brava Angela, che tu interpreti le domande che io voglio fare. Ma guarda, le domande di Christian sono così chiare. Ecco, allora qui fai delle domande che i fratelli che ascoltano vorrebbero fare, ma per mancanza di piccioni viaggiatori non possono. Sì, ma credo che questo sentimento che Christian ci descrive, credo tanti di noi lo abbiamo vissuto e tanti cristiani lo sentono, che stanno cercando di evangelizzare. Certo che non lo facciamo super bene, anche noi stiamo imparando come evangelizzare, ma anche il piccolo che cerchiamo di fare non viene ricevuto, viene respinto. È normale che ti scoraggi. Noi sono stati respinti così tante volte. Guarda, la prima cosa che il missionario del Vangelo deve imparare è ad essere respinto. Di mestiere io faccio il respinto. E anche Gesù, siamo in buona compagnia. E dice Christian, per la maggior parte degli uomini sembra che una volta sotto il gioco del diavolo, seguire Gesù è un'impresa troppo ardua. E così sembra. Ripeti un po', seguire Gesù. Seguire Gesù è un'impresa troppo ardua. Una volta che sono presi dal mondo, sono controllati dalla società, programmati su come vivere, è difficile per loro capire perché devo amare Gesù. Certo, una volta che diventi drogato ai suoi fatti è difficile staccarsi. Gesù può aiutarti, ma è meglio pensarci prima. E cosa fare? Perché Christian dice, ho paura di diventare una vergine senza olio. Vergine senza olio, sì, sì, guarda, e anche io devo guardare i miei passi. E guarda, Christian, l'olio delle vergine non è che riguarda comunque solo la evangelizzazione, che la evangelizzazione è una parte. Certo, anche quella ci vuole per essere una vergine camminando nel sentiero delle vergine di Matteo 25,1. D'accordo, anche la evangelizzazione è parte. Ma l'olio dello spirito è la condizione generale del nostro cuore. Cioè l'olio delle vergine rappresenta tutto il nostro cuore, tutti gli aspetti del nostro cuore. Non solo andare a evangelizzare, è una parte. Quindi se Gesù si trova là e sei al primo posto, allora c'hai l'olio delle vergine, c'è Gesù nel tuo cuore. Io ho evangelizzato in Italia per anni, tanti anni, e ho visto il crescente deteriorarsi degli spiriti. Sono d'accordo con te, non è più come prima. Però Italia era uno dei paesi più aperti al Vangelo. Cosa è successo? Guarda, successo è quello che è successo, lo sappiamo. Le chiese sono addormentate e il diavolo ha preso potere. Il potere del diavolo viene direttamente dalle chiese che dormono. Qualcuno ha detto tutto ciò che serve perché il male imperi, il male vinca, e che gli uomini giusti non facciano niente. Va bene, se il soldato deve servire la patria, non la serve, non la difende, il nemico la invade, no? È un po' come la Caporetto, la Caporetto italiana. Insomma, l'uomo di fede non si arrende però, noi andiamo avanti, se la nostra fede è vera, ci daremo da fare, va bene, a muso duro, finché troviamo l'approccio giusto. C'è un momento che è buono essere testardi contro il diavolo. Quando vado in un posto che è difficile evangelizzare, sta a me, arrivi davanti a una Gerico, arrivi davanti a un Golia. Sta a me trovare il sassolino giusto da conficcare nella zucca a Golia. Sta a me chiedere al Signore come vincere Gerico, che aveva le mura e arrivavano fino al cielo. Allora, come fai a rispondere a Cristian? Come posso evangelizzare di più? Come faccio in modo che le persone ascoltino? Ma io direi, una cosa importante su come evangelizzare è ascoltare. Adesso voglio entrare un po' nei dettagli, come spaccare il ghiaccio. Quindi, fratelli, che programmate di evangelizzare, spero tutti, aprite bene il cuore. Anche le orecchie, carta e penna, che il Signore vi parlerà. Anche c'è dei punti qui da condividere, che vedrete, vengono dal Signore, vedrete, vi parleranno al cuore. La prima cosa da evangelizzare è ascoltare. Tu non vai, come ti stiamo dicendo, buongiorno, ti fanno sentire un ignorante. Ti aspetta che ti spiego, lei non sa chi è il nome di Dio, te lo dico io, guarda, si chiama Egeova. Insomma, il Spirito del Signore Egeova litigare e trattare la gente come ignoranti. Non è quello il modo di approcciare. Va bene? E ascoltare, stare zitti. Fare amicizie. Ciao, ciao, buongiorno, siamo cristiani, gliela viene dica. Ascolta. Perché in base a quello che lui ti dice, tu ti dà la risposta, no? Allora, ascoltare le persone che vuoi raggiungere, fino a che non hai capito di cosa hanno bisogno e quale sia l'approccio giusto. Va bene? Il dottore non può dare a tutti quanti la stessa medicina o tagliare una gamba a tutti quanti. Giusto, sì. Il dottore deve ascoltare. Scusa, ascolta, tagliamo la gamba. Ma dottore, la gamba, la gamba sola. Ma io ho il suo mal di testa. Ah, mal di testa, aspetta un po' di scoccia e rimettiamo la gamba. Quello è l'evangelizzatore che non ascolta. No, 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 si fa così. Ma il dottore deve ascoltare. L'evangelizzatore, i missionari del Vangelo, ci sono due tipi di missionari. Missionare in generale e c'è il missionario del Vangelo. Come c'è il dottore generico che sa un po' di tutto e poi c'è il dottore specializzato. Agli occhi, la ringoiatra, eccetera. Noi siamo i missionari specializzati nell'evangelizzazione. Ci sono missionari che fanno altro. Lavoro sociale, aiutare di qua e di là, costruire pozzi. Cose belle, ma c'è qualcosa di più importante. Prima del pozzo, prima di dare da bere l'acqua del pozzo, dagli l'altra acqua. Giovanni capitolo 4, chi beve della mia acqua avrà mai più sete. Ma di cosa sta parlando questo? Ascoltami e te lo dico. Allora, il missionario deve prima ascoltare, il missionario deve chiedere. Dobbiamo sondare, investigare, ricercare, fare domande e poi riflettere. Continuare a fare amicizia, chiedendo. Fin quando senti la voce del Spirito Santo e dice, ha bisogno di questo. Dopodiché c'è che la scrittura è su questo. E allora, così imparerai come impostare il tipo di testimonianza. Mica puoi evangelizzare tutto allo stesso modo. È diverso se evangelizzi il religioso, santimunioso, legalista, che è meglio evitare completamente, e la prostituta, il drogato, il criminale. Non è lo stesso. Cambia il linguaggio. Primo Corinthians 9 dice, dice quei giudei giudeo, con la legge, con la legge, senza legge, senza legge. Non è che evangelizzi un credente e un drogato allo stesso modo. Cambia drasticamente. Guarda, nel corso biblico abbiamo il passo numero 4, che parla di come evangelizzare il quarto, vero Angela? Sì, giusto. Il quarto passo è il corso biblico, e che dura una settimana, ovviamente. Va bene, saranno, quanti sono? 6, 7 registrazioni? Sì. 8, 9, non lo so. Sì, lì imparate in una decina di registrazioni audio. Quello che io ci ho messo a imparare, cosa sono? 49 anni che predico il Vangelo. 49. 49, sono ancora giovane, eh? L'anno prossimo è la golden wedding, come si chiede? 50 anni. Sì, c'è giubileo, nozze d'oro con Gesù, per favore. Amen. Va bene, in 4 e 4, 8, una settimana imparate quello che io ci ho messo 49 anni a imparare. Poi se trovate un insegnante meglio di me, che ce ne sono di sicuro, andate pure. Mandate da qualcuno che vi insegna, per cortesia. Non cercate di dire, ah, riceverò le mie rivelazioni. Io, frate Giuseppe, in quel poco che ho imparato, ho imparato un po' di qua, un po' di là, un po' di là, un po' di qua. Ho imparato dallo zoppo, dal mezzo cieco, dal mezzo cattolico, dal mezzo protestante. Dico, alla fine ho messo insieme il Picasso, ho messo insieme il puzzle, 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 il puzzle, ed eccomi qua. Dice, bravo, buona nulla, d'accordo. Però, insomma, è il meglio che Gesù poteva fare, no? Lo so che a posto dell'orecchio c'è il naso, a posto della bocca c'è un occhio, però questo è il meglio che Gesù poteva fare, d'accordo? Ma, ma, ma. Oh. Allora, voi potete fare meglio. Allora, studiate questo quarto passo, va bene, su come evangelizzare. Vi consiglio di studiarlo bene, non ascoltate solo quando cucinate i spaghettini, quando guidate la macchina, dovete alzarvi la mattina un po' prima, se siete così occupati, e carte, penne, Bibbia, silenzio, e fate entrare nel vostro cuore, non tanto le mie barzellette, tanto, ma le scritture che vi do, e il punto, i punti. Lui dice che non ha mezzi tecnologici, dice, cioè non ha una radio, in poche parole. Sì. Ma guarda, io, caro fratello, io non ho mai avuto mezzi tecnologici per evangelizzare, semplicemente un paio di scarpe, volantini, una Bibbia, tutta la mia vita. Sì, poi in quei tempi non c'era neanche telefoni, smartphone, whatsapp, email, internet, non c'era niente, solo di persona. Niente, era andare in strada, solo di persona. Andare in strada e via. Sai, sono missionario di strada, infatti si capisce anche come parlo, va bene. E allora, semplicemente, testimoniavo le persone, una persona alla volta, o alcune alla volta, una casa alla volta. Va bene, l'ho fatto, guarda, io l'ho fatto questo per 40 anni, arrivato a 40 anni, va bene, i miei 40 anni così nel deserto, ma però evangelizzando nel deserto. Poi di a 40 anni mi ha aperto la porta della radio, mi ha dato un microfono, va bene. E allora, Dio ha provveduto da allora, all'inizio ho dovuto pagare tutti i soldi che avevamo per comprare un microfono. Ricordi Angela? Abbiamo speso i soldi che non avevamo per spendere, comprare un microfono che costava, non so, era 1.300 euro, 1.500 euro. Sì, sì. Una cosa pazzesca che mi ha preso un colpo, un contracolpo. È stata mia moglie, ma no, riusciamo, riusciamo a comprarlo, riusciamo. Dio la benedica mia moglie a lei e, sai, dietro ogni uomo sgangarato c'è una grande donna. Amato. Dietro ogni piccolo missionario c'è sempre una grande donna. E ha grandi sorelle anche, fratelli e figli, tutti qua, dare una mano l'un l'altro. Va bene. Allora, per 40 anni ero un missionario del Vangelo, del Vangelo però, di strada, mi vedevi nelle piazze e dappertutto, di negozi a negozi, casa in casa, porta in porta, persona a persona. E la sera andavo a casa stanco, morto, c'era sempre, spesso un fratello che veniva e spesso non c'era nessuno. Dipendeva. E allora, e allora il signore mi ha dato questo microfono, da allora si provvede anche materialmente alle spese della missione, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, insomma, mai lamentarsi, sempre ringraziare il signore. Ma io prima ho dovuto mostrare al signore di essere stato fedele nel mio piccolo, piccolissimo, per anni e di accontentarmi di quello che mi dava, cioè senza tecnologia, senza niente, cioè come tutti i missionari del Vangelo fanno, anche io cercavo di fare, cercavo le pecorelle sperdute, le andavo a cercare, non aspettavo seduti in panca arriveranno, come sai il messicano che è dal mio sotto l'albero l'intervista nella televisione, dico scusi lei cosa fa sotto l'albero e mi descanso, traduci, mi sto riposando, e il messicano dice mi descanso, dice ma non lavoro e no è demasiado duro lavorare, ma no lavorare è troppo dura, e dice ma cosa fa, che mestiere fa, io busco manzana, che lavoro fai, io cerco le mele, e mira sto dormendo a bacco di un arbo di manzana, guarda che mi sto riposando sotto un albero di mele, ma scusa ma lei non si alza a raccogliere le mele, no, è demasiado trabacco, troppo lavoro alzarmi e prendere le mele, e come funziona la situazione, come dice, beh, io pongo la mano così e la mela e tiene, la mela, la manzana tiene che caer solita, la manzana è così che funziona, io mi sto riposando e tengo la mano aperta e la mela deve che cadere nella mia mano, e se no è demasiado trabacco, se no è troppo lavoro, fratelli messicani io a prendere una basoletta, ok, potremmo dire un italiano, diciamo, poveri messicani, e allora l'intervisore dice, ma, però, e se la manzana non cae nella mano, che passa? E se la mela non cade nella tua mano, cosa succede? Amico, un agno molto male. Allora, caro amico, è un anno molto brutto. Sì, è stata una coseccia male, una coseccia, una mietitura terribile, se la mela non ti cade nella mano. Cioè, noi che siamo seduti in chiesa la domenica sta dalla panca, la pecora deve passare davanti alla chiesa, deve entrare solo, deve sedersi al tuo fianco, tu lo guardi e gli dici buongiorno, scambiate un segno di pace, pronto, ecco qui, arrivederci, ci vediamo la settimana prossima. Cioè, è così che evangelizzare, è così che le certe chiese credono di evangelizzare il mondo perduto. Ecco, allora io nel mio piccolo ho seguito l'esempio di missionari meglio di me, che le piccole andavano a cercare, qualunque uomo che ha sposato una sventola di moglie, se le andate a cercare, mica aspettato lì a pregare sulla panca alla moglie arrivare qui, se le esi, al mio fianco e mi farà l'occhiolino. no caro, se aspetti così tua moglie non la trovavi mai, ti ha dato da fare, va bene, ha comprato il fiorellino, il cioccolato, l'ha invitato per il gelatino e alla fine dice ma quasi quasi, questo me lo sposo, troppo terribile non sembra. Ma è vero, se ti dai da fare il Signore provvede, infatti è così e lo so che molti dicono ma non mi permetto, io devo lavorare, devo prendermi cura della famiglia ed è giusto, hanno ragione, devono farlo, però in quello che puoi metti Gesù sul primo posto e evangelizza e sai che il Signore provvederà anche a quelle cose che ti servono materialmente, come fa con noi, sappiamo che funziona, io quando ho incontrato voi ho detto ma è impossibile lasciare il lavoro, di cosa vivo, di aria? No, si deve mangiare. Vivo d'amore, come faccio? Impossibile, non esiste in tutto il mondo qualcuno che vive senza un lavoro, senza un salario, non si può vivere se non diventi un mendicante, devi lavorare. E la tua scuola non insegnavano questa, no? No, è impossibile. Che ti seguire Gesù, li prevedeva. Ti programmano a fare le loro cose, lavorare ogni mese e poi vedevo il vostro esempio che il Signore provvedeva il poco che avevate era sufficiente per sopravvivere, i bambini avevano le scarpe, avevano la scuola, avevano da mangiare, non era molto ma necessario c'era sempre. Studiavano in casa, grazie a Dio. E ho detto ma ci provo anche io? Così titubante e prima anche di provare io mi hanno licenziata al lavoro, ho dovuto per forza provare. anche il Signore ha dato un incoraggiamento, ho dovuto per forza provare che hanno chiuso completamente quella serigrafia dove lavoravo. Tipografia? Serigrafia era. Comunque ha funzionato e funziona ancora quindi il Signore si prende cura anche materialmente di quello che hai bisogno o attraverso le pecorelle che evangelizzi come voi fratelli inviate le vostre decime o attraverso mentre tu vai mentre tu vai di posto in posto ricevi quello che ti serve ma c'è sempre un modo che il Signore provvede non ti lascia senza. perché la Bibbia dice che l'operaio è degno del suo salario se lavori per Gesù Gesù ti paga. Io ero in Colombia e pecorelle colombiani ragazzi e i soldi erano come al solito non esattamente sovrabbondanti anzi un po' al contrario misurati col contagocce perché il Vangelo deve essere grati e sai come fai non avanzano mai mica trovi sempre uno che ti dice ok e allora l'ora di pranzo andavo a evangelizzare nella zona residenziale andavo di porta in porta a predicare il Vangelo dodici mesi in poi andavo e trovo tutti i rassiduti che mangiavano e dice saluti sono venuto a predicarle Vanghelio e dice ah buono vieni dentro il mano entra che sono pecorelli colombiani entravo dentro e predicavo e questi andavamo e dicevo ma per caso vuoi mangiare qualcosa d'accordo d'accordo e sennò come faccio a mangiare scusa ero solo uscito da Venezuela perché il visto era scaduto capito questa è un'idea oppure vado a ristorante in ristorante a evangelizzare il padrone cioè capito e poi sono pecore sono pecore Gesù dice andate in una casa vedete se sono degni degni di ricevervi degni di sfamarvi se non sono degni vi scuotete la polvere dei piedi e andate via e poi da altri giorni sono trattati peggio di quella città Matteo capitolo 10 cioè come dire è il piano di Gesù cerca cercate e troverete sì le pecorele ci sono dappertutto insomma io non ho avuto nessun problema d'accordo il problema non sono le pecore ma quello che andiamo a Matteo 9 in Matteo 9 vediamo qual è il problema il problema non sono le pecore che mancano ma mancano i pastori Gesù non ha mai detto di pregare per le pecore che vengano non ha mai detto pregate che Dio mandi pecore da evangelizzare mai lo ha detto com'è che ha detto in Matteo 9 36 vedendo le folle fino al 38 vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore allora disse ai suoi discepoli la messa è grande ma pochi sono gli operai pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe Matteo 9 36 a 38 va bene mancano i pastori perché sono tutti a scaldare le panche ogni chiesa è piena di pastori di profeti di evangelisti di guaritori di amatori che amano Dio ma non lo sanno che sono pastori guaritori non lo sanno no c'è la Santa Teresa c'è la Santa Caterina c'è San Bartolomeo Angela ma per cortesia no non i santi no lasciali stare non i santi andiamo avanti sono lì adorare il dente di San Giusto i capelli capito c'hanno persino i cadaveri dentro le chiese il santo che è fossilizzato l'hanno preso dal mausoleo l'hanno messo lì e tutti a baciare il vetro l'ho visto dentro mamma mia è una cosa film dell'orrore ma la volete sempre lire tu poveraccio ma la volete sempre lire questo cadavere per cortesia ma è vero scusa Angela mi è scappata guarda questo fratello dice sembra cos'è che dice questo fratello sembra che nelle parole nei fatti servono a qualcosa sì quando evangelizzi nelle parole nei fatti aiutano insomma guarda tutti i fatti tutte le parole che servono non è che ti servono parole speciali o devi fare compiere i miracoli fratello tutti i fatti che hai bisogno di compiere le parole che ti servono sono già stati compiuti e dette da Gesù Cristo va bene ha detto sulla croce tutto è compiuto e adesso devi solo predicarlo se predichi Gesù certo aiutasi a volte che c'è regale un po' di pane a un morto di fama uno che ha fama regale da un bicchiere di acqua uno che ha setto eccetera ma non è necessario però non è che indispensabile che Gesù ha fatto questo noi devono essere pronti a dare il fratello ma non è così che quando Gesù Giovanni VI arrivavano le folle dicono venite qua perché vi piace il pane e i pesci e adesso non vedo niente avete fame mangiate questa la mia carne sete bevete il mio sangue scappati tutti Gesù non era un missionario umanitario lavoratore sociale che aiutava le vecchiette andava all'ospizio quando ti capita certo siamo andati anche a noi ospizi siamo andati manicomi ospedali psichiatrici mentali siamo andati andiamo dappertutto dove capita va bene insomma dobbiamo solo predicare le parole di Gesù i fatti di Gesù lui ha fatto tutto i nostri fatti e le nostre parole sono extra sono la nostra piccola parte quando si può il 1% il 99% è la predicazione di quello che Gesù ha fatto le parole che lui ha detto le opere che lui ha compiuto non ti servono parole speciali solo il Vangelo non ti serve ripetere i fatti di Gesù se puoi bene altrimenti predica il Vangelo allora se possiamo compiere grandi fatti e dire grandi parole bene ma a volte non è possibile fare grandi fatti per esempio se stai fermando gente per le strade che fatti vuoi fare giochi di prestigio adesso ti faccio un miracolo potrei imporre le mani e guarirlo un po' di fede è sufficiente ma neanche quello è indispensabile Gesù non ha guarito tutte le persone che ha evangelizzato Gesù ha evangelizzato anche senza guarire si è chiamato da prima evangelizzare la guarigione era secondaria si guarda in atti fai mi prendere fiato insomma in atti capitolo 8 vediamo un esempio va bene cosa vediamo in atti capitolo 8 vediamo un apostolo che si chiama Filippo si evangelizza chi un eunuco che fatti compie Filippo che fatti fa no niente che parole speciali non ha fatto un gran che Filippo senza dare particolari senza fare fatti clatanti senza trovare parole nuove o compiere miracoli particolari perché l'eunuco si convertisse non ha fatto niente di questo sto dando un esempio potrei dare altri quindi l'eunuco si converte semplicemente con la predicazione di Filippo Filippo si limita a spiegare le scritture nient'altro e la storia cristiana ci racconta che questo eunuco è tornato dalla regina Candace in Etiopia e lui ha iniziato una chiesa cristiana dice la storia cristiana va bene c'è gloria che alza il dito volevo anche dire che come ha detto Filippo ha predicato il Vangelo è stato lo Spirito Santo che ha toccato il cuore dell'eunuco e lui si è aperto ha ricevuto la parola cioè dobbiamo anche confidare nello Spirito Santo che ungerà le parole così che la gente può ricevere la parola che le tue parole diventino miracolose esattamente pregate per questo non sarete voi quelli che parlate ma sarà lo Spirito Santo che parla attraverso di voi e allora il tuo parlare diventerà miracoloso il Signore lo ungerà il Signore lo ungerà e compirà il miracolo della conversione che è il miracolo più grande che si può compiere amè nel nome di Gesù Cristo amè avanti Gloria allora il miracolo più grande c'è solo un miracolo più grande della conversione solo uno nient'altro Gesù ha guarito questo quell'altro più grande della conversione sì più grande della conversione c'è solo un miracolo e quando uno diventa apostolo no è quale allora no come no neanche nemmeno uno che si converte diventa discepolo è più grande c'è solo un miracolo più grande della conversione il miracolo della risurrezione il miracolo di Cristo che senza la risurrezione la tua predicazione non vale niente ecco però a parte la risurrezione tutti i miracoli che Gesù ha fatto messi insieme tu cosa preferiresti? che ricevi tutti i miracoli di Gesù che il tuo piede guarisce la tua mano guarisce il tuo orecchio guarisce il tuo occhio guarisce la tua lebra sparisce eccetera 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 o preferisci tenerti tutte le tue disgrazie andare in cielo o preferisci guarire andare all'inferno o che è ammalato senza un occhio senza una mano come Gesù diceva Marco capitolo 9 e però senza un occhio tagliati la mano cavati l'occhio e salva la tua anima è meglio che andare tutto intero all'inferno diceva Gesù tutti i miracoli di Gesù non valgono la conversione grazie che Gesù mi guarisce il mio piede la mia gamba la mia testa io sono in ospedale ambulante va bene ma se poi me ne vado all'inferno e allora fratelli anche voi fratelli che non fate non siete in grado di fare miracoli che non siete non avete ancora raggiunto la fede di guarire le persone che non è così difficile io sono andato avanti da 73 fino al 2003 senza vedere i miracoli quanti anni sono? 73 2003 30 anni senza vedere i miracoli hanno visto nel 2003 ha cominciato a vedere i miracoli di guarigione e adesso ne ha visto centinaia e migliaia praticamente adesso non preghiamo più per un gruppo quando siamo in una chiesa che vediamo in continuazione guarigione non possiamo pregare senza vedere guarigione perché è il Spirito Santo perché adesso credo non dubito più non sono perfetto non c'è un tocco magico e tanti fratelli della nostra chiesa fanno anche meglio però 30 anni non ho visto miracoli va bene e allora devi andare avanti il Signore ti metta la prova guarda magari non saremmo in grado di dare pane pane agli affamati vestiari bisognosi magari non siamo in grado magari non riusciamo a visitare gli ammalati tutte cose belle e giuste ugualmente però possiamo guidare i perduti alla salvezza Filippo come Filippo tutto ciò che dobbiamo fare è insegnare amorevolmente la storia raccontargli la storia la storia di chi? storia di Gesù storia della sua salvezza e cosa cosa dici sul fatto che Cristian e non solo lui ma anche altri fratelli dicono ma la gente sulle strade non si ferma e non vuole ascoltare il messaggio dice Cristian in questo mondo dominato dal principe del male e dai suoi spiriti aprire il cuore alle persone a Gesù sembra diventato quasi impossibile si è vero dice così ed è così lui vuole sapere lui sta chiedendo in modo pratico non solo in senso spirituale che Dio è potente Dio può farlo grazie lui vuole sapere nitti gritti cioè in pratica come si spacca il ghiaccio come ABCD l'abbecedario vuole sapere la prima elementare dell'evangelizzazione e so che non è il solo allora la mia risposta è questa per entrare nel pratico non essere troppo spirituale sulle nuvole l'esperienza è stata che ogni volta che il mio Vangelo è stato rispinto attenzione io ci ho pregato su io ci ho meditato su ci ho pensato ci ho rimuginato ruminato vabbè i pecore ruminano ci ho meditato e facendo questo lo Spirito Santo mi ha sempre mostrato modi nuovi e diversi di presentare il messaggio di Gesù il modo migliore in questa situazione in qualsiasi situazione cioè ogni fallimento ogni caduta è una benedizione perché ti mostra cosa non fare ho scoperto quasi tutti i modi sbagliati di evangelizzare va bene Edison Edison prima di inventare di scoprire la lampadina ha provato più di mille volte ha fatto mille fiaschi è andato avanti e però ci sono fratelli che però una volta due o tre non funziona ciao addio Gesù all'evangelizzazione pensaci tu io torno a scaldare le panche torno a mio vomito no andiamo avanti continua a cadere continua a sbagliare continua a fare cilecco a fare fiasco continua 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 impara da Edison proveci mille volte Elia Elia era Elia no si ha mandato il suo servo vai al mare vai a vedere se arriva una nuvola vedi se aspettiamo la pioggia profetizzato pioggia allora manda il servo vai a vedere insieme la collina lì vai al mare vedi se deve piovere il servo torna e dice mio signore non si vede niente nessuna nuvola Elia cosa gli ha detto ritorna sette volte caspita continua sette volte torna e il servo è andato sette volte è andato è andato un po' di volte è tornato signore c'è una piccola nuvola che si alza dal mare presto corri da Achaz digli di correre che sta arrivando un temporale un acquazzone come una nuvoletta che viene dal mare cioè hai dovuto tornare sette volte quella è fede si capito si se tu imponi le mani la persona non guarisce torna sette volte anche più di sette non evangelizzare più se non chiedi lo stato di saluto è pronto ad offrire preghiera mano sulla spalla con fede sei guarito in nome di Gesù Cristo Gesù Cristo ti guarisce vattene Satana ti lego Luca 10 19 sei sotto i miei piedi diavolo tu sei guarito adesso devi solo credere credi tu insomma guarda negli occhi come insomma sì o no diciamo sì 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 o no no sì sì oh devi spaventare il diavolo dalla zona hai capito occhi di fuoco vattene Satana io sono in controllo io sono più forte di te io ho più potere di te Satana tutti i tuoi demoni messi insieme perché io c'ho Gesù Cristo e davanti a Gesù Cristo voi mi mettete tutti in ginocchio tutti i demoni in ginocchio davanti a Gesù e dov'è Gesù? nel suo trono dov'è? nel mio cuore ti sto parlando sto qui davanti a te va bene? ci sono testimonianze per esempio questo predicatore americano che voleva a tutti i costi guarire le persone perché il Vangelo dice guarite gli ammalati e ha detto ho pregato per più di mille persone e nessuno guariva e lui non si fermava diceva che andava nel centro commerciale con sua moglie vedeva un malato imponeva le mani pregava e quello non guariva al punto che la moglie si vergognava e non andava più con lui ma insomma il gatto non ci vengo più una volta l'ha tenuta in macchina un'ora e mezza e ha detto non si fermava si si è Carrie Black che sta parlando no è Tom White Tom White allora evangelizzava nel suo mercato sai una pegola dopo l'altra come si fa a staccarsi e la moglie dice vedi ti aspetta in macchina tesoro si si aspettata un'ora e mezza furiosa io al suo mercato con te non ci vengo più e tu devi evangelizzare tutto il suo mercato il suo mercato è un posto meraviglioso a pregare attenzione le videocamere gira le spalle la videocamera piano con la Bibbia evangelizza e c'è una signora lì che vuole evangelizzare guarda la signora e dice magari sei un uomo quindi un po' sfavorevole però scusa signora com'è che si cucinano questi fagioli ah quella ti dà se poi quella italiana sei a posto dice guarda innanzitutto gli serve una pentola grazie non ci avevo pensato va bene e poi arrivi a Gesù il suo mercato è un posto meraviglioso per evangelizzare provare per credere Angela perché non parli perché non mi lasci allora questa persona ha detto ho evangelizzato no ho pregato per la guarigione di più di mille persone nessuno guariva non mi sono fermato e adesso è uno dei grandi guaritori ogni persona per la quale prega guarisce wow capito fratelli non fermatevi se l'evangelizzazione è dura se nelle strade incontrate capre non fermatevi imparerete vedrete che l'esperienza avviene e imparerete come toccare il cuore delle pecore io un giorno mi sono arrabbiato era verso il 2003 mi sono arrabbiato contro il diavolo questa signora è guarita io gli ho dato un cuore nuovo quanti anni avevo avevo 80 anni 82 gli ho dato un cuore nuovo non riuscivo a salire la scala si appoggiavo la ringhiera poi andavo su e giù come una bambina avanti e indietro avanti e indietro gli ha dato un cuore nuovo e da quel giorno in poi ha detto basta diavolo non mi inganni più adesso io non dubito più anche davanti al cadavere credo oh alleluia guarda io mi ricordo ero a Napoli chi era a Napoli con me? io no voi non c'eravate ancora? no 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 era a Napoli e allora non eravamo soddisfatti di come andava la predicazione allora spesso tutto ciò che devi fare per trovare modo di evangelizzare è usare gli occhi gli occhi? usa gli occhi guardate intorno era estate allora abbiamo pregato e lo Spirito Santo ci ha messo davanti agli occhi che in quel periodo Napoli era pieno di turisti che andavano nelle isole avanti e indietro faranno ancora suppongo e che fare? come raggiungere questi turisti? come si fa? saltano sul traghetto avanti e indietro e noi siamo qui a cercare pecorello come facciamo? allora disperiamoci un poco e allora alle preghiere giuste Dio risponde sempre e allora chi di noi era in grado di suonare la chitarra anche io suonava sui traghetti e allora andavamo a cercare il capitano del traghetto buongiorno signor capitano Dio la benedica lei e la sua nave cosa volete? e noi gli testimoniavamo tranquillamente la nostra vita la nostra opera per il signore e semplicemente chiedevamo ci piacerebbe cantare per allegrare i viaggiatori che vanno avanti e indietro e dare alcuni dei nostri bellissimi volantini ecco qui c'erano per lei un volantino lui guardava ecco se fa piacere andiamo avanti e indietro gratis capisce no? e allora guarda fratelli sono i volantini che potete scaricare dalla nostra pagina radio sono ancora sono un po' vecchiotti di anni ma ci sono scritture sono sempre fresche va bene e capitano mi pare senza eccezione ci ha sempre fatto andare avanti e indietro e la maniera a strimpellare a suonare capito facciamo autostop il traghetto avanti e indietro avanti e indietro va bene abbiamo preso una linea una linea di battelli di navi ferry boat traghetti una linea che faceva Napoli Ischia Ischia Napoli e avanti tutta forza avanti tutto Gesù e allora tanto per cambiare squattrinati come sempre va bene perché così l'organizzazione è gratis sono pochi quelli che aiutano però il signor provvede e chiedevamo un'offerta volontaria perché attenzione se voi date i volantini per questa informazione vendere è proibito ed è illegale offerte va bene non confondetevi se no vi mettete nei guai in questo modo riuscivamo a pagare i viaggi in giro per Italia e la permanenza ovunque eravamo va bene e l'evangelizzazione andava con via vera quindi si evangelizzava si passava il cappello il cappellino e via grazie Ischia sai che ci sono delle notizie su Ischia c'è un giornale qui sì BBC News inglese guarda a proposito di Ischia approfitto e chiedervi preghiere per le notizie che sono avvenute ieri fratelli vuoi leggere questo c'è uno italiano e uno in inglese leggi la BBC in inglese deadly landslide tears through l'italian island of Ischia dice una una grande frana cade sull'isola di Ischia dice landslide sì landslide è una frana e NBC News questo americano at least a dozen people are missing in Italian landslide dice NBC News dice almeno una dozzina di persone che non si trovano sotto la sotto le macerie e poi altri giornali CNN CBS Evening News c'è uno italiano qui e l'agenzia Hansen Italiano cosa dice Angela? frana a Ischia si scava nel fango morta una trentunenne undici i dispersi ecco preghiamo preghiamo fanpage Ischia il sindaco dice inevitabile ma per i cittadini la catastrofe è annunciata era stato annunciato? bene la catastrofe è annunciata nel senso che si aspettavano si aspettavano perché sembra che hanno deforestato abbattuto alberi non hanno protetto gli alberi è sempre la solita storia tremenda possa Dio preghiamo fratelli possa Dio usare i soccorritori a salvare i dispersi nel nome di Gesù Cristo Signore aiuta le tue pecorelle Signore aiuta le persone che soffrono Amen Signore aiutaci Gloria Gloria Signore Amen Alleluia sai la gente deve pensare solo le vacanze il ristorantino ha detto Gesù quella torre che cascata ha ucciso state attenti dovete pregare in continuazione così che potete non trovarvi nel posto dove il diavolo farà qualcosa pregando il Signore vi mostra cosa fare cosa non fare camminate in preghiera Amen Amen Sì Allora Fratello Giuseppe dicevi che volevi dare ai fratelli e a Cristian in particolare alcuni suggerimenti pratici come fare quando parli con le persone Ecco sì non solo spirituali ma anche pratici praticamente questo che Cristian sta chiedendo qualcosa di più terra terra se siamo troppo spirituali siamo umanamente buoni a nulla se non diventiamo anche pratici e la Bibbia è anche una cosa pratica allora andiamo per il grado il primo passo per evangelizzare dovete scegliere il luogo giusto io ho imparato presto che le strade delle grandi città sono i luoghi meno ricettivi ho sempre preferito i paesini più piccoli sono i paesini più la gente è aperta ad ascoltarti tu puoi andare in montagna dove ci sono quattro case e due persone e ne incontri solo una per strada e quella lì però probabilmente è ricettiva va bene? vero si dice Gloria quando evangelizzavo in Italia ovunque ovunque evitare la grande città andare nei paesini o poi paesi più naturali però nell'intorno le grandi città sono molto tartassate dai mendicanti professionali e venditori di fumo cioè è dura se vuoi andare nelle città certo il signor vuole raggiungere tutti però se tu puoi evangelizzare 100 persone nei paesini o evangelizzare solamente 4 nelle città io andrei nei paesini tuttavia noi evangelizziamo spesso i studenti i giovani nelle grandi città per le strade nei parchi si si nella zona pedonale spesso anche adesso andiamo a volte nelle grandi città andiamo in una zona pedonale quindi è possibile anche nelle città si la zona pedonale perché la gente è più rilassata non sono di corsa si si perché andate dove c'è il traffico cittadino il clacson il rumore non si ferma nessuno è più difficile è possibile anche lì però è più difficile quindi fate bene i conti i calcoli quindi fate bene i vostri piani allora il secondo passo io direi sarebbe di decidere il metodo di evangelizzazione e allora il metodo allora c'è la distribuzione dei volantini o potete organizzarvi con dei cd o delle chiavette delle chiavette usb del computer per mettere gli audio va bene nel nostro caso che abbiamo i nostri audio mettete i nostri fratelli della nostra chiesa metteranno gli audio alla nostra chiesa se appartieni a un'altra chiesa cattolica metterai i tuoi però se fa parte della nostra chiesa suggerisco usare gli audio con i messaggi che il signore ha dato a noi ecco oppure volantini ecco se voi lo fate non so ogni così però se lo fate diciamo abbondantemente dovete chiedere offerta per la missione se non chi è che vi sostiene il missionario deve essere autosostenuto deve essere missionario l'albero deve essere autosufficiente l'albero estrae l'acqua dalla terra e produce i frutti c'è questa storia che uno deve finanziare un altro no io ho sempre fatto tutta la mia vita ho sempre sostenuto me stesso messo da parte la decima e il signore mi ha sempre benedetto lo faccio ancora ancora mettiamo da parte la decima quindi siate fedeli il signore vi benedirà e allora diciamo l'evangelizzazione può essere nelle strade nei parchi di casa in casa potete usare una chitarra se volete evitare grandi pianoforti altoparlanti questo qui è più la spesa che l'impresa la chitarra è la cosa migliore metti le spalle vai in giro fare il menestrello per Gesù come fa Diego a Milano lui è un buon esempio Diego potrebbe andare su queste navi che fanno traghietto se vuole ma lui se la passa bene ma quando Milano è agosto è una città fantasma può considerare quello si è spostato in Abruzzo ha detto si usare il tuo talento Diego che tu sei un cantante tu ti fai cantautore fare su queste canzoni però anche fratelli che non sono cantautori cantate i canti che non siano troppo religiosi che vivete in un mondo che non gli piace a nessuno la religione va bene quindi cercate di non ostentare io ho sempre evitato i canti religiosi di apparire religiosa cose che per via della reputazione delle religioni fa fa scappare la gente al massimo potrete raggiungere i religiosi ma non è la nostra chiamata i religiosi vanno a loro chiesa se sono contenti non li disturbate un religioso invece che la sua chiesa lo caccia fuori potete aiutarlo abbiamo tanti fratelli che sono state cacciati fuori dalle chiese questo scappare dalle chiese le nostre porte sono aperte ma non è che andiamo a cercare religiosi la loro chiesa non andate a rubare le pecore degli altri sono contenti lasciateli allora se voi evangelizzate i religiosi molti di loro verranno spesso solo per litigare per le dottrine che è una perdita di tempo io invece ho sempre cercato di raggiungere i non credenti i perduti e non cercare di compiacere i religiosi che già credono cioè i religiosi che hanno già la loro chiesa e non sono quelli che lo Spirito Santo ci manda a raggiungere guarda vai Matteo 10 per cortesia sì verso 6 all'8 Matteo 10 6 ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele andando predicate e dite il regno dei cieli è vicino guarite gli ammalati risuscitate i morti purificate i lebrosi scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date Matteo 10 6 a 8 Alleluia allora pregate fratelli pregate forte intensamente con chi di loro magari può avere anche malattie quando guariscono oppure il Signore immediatamente gli toglie i dolori miracolosamente sarà per loro un segno e tu ti sarai guadagnato la loro attenzione perché l'attenzione e il diritto a parlare evangelizzare bisogna guadagnarselo in modo più facile essendo rispettoso lasciandoli parlare essendo amichevole ti sei guadagnato il diritto a parlare ti ascolteranno quindi però cercare di non non fate delle guarigioni miracolose il vostro primo ministero il mio suggerimento Dio ci manda come dicevo prima innanzitutto dare il messaggio di salvezza che è il miracolo dicevo più grande ameno meglio ammalati e salvati che guariti e perduti va bene sicuratevi che dopo la guarigione li guidate alla salvezza non dimenticatevi la salvezza guarda per spaccare ghiaccio questo chiamerei il terzo passo potete per spaccare ghiaccio attaccare discorso ovunque volete con chiunque volete semplicemente dando loro un volantino facilissimo se non avete la chitarra non vi serve la fisarmonica non vi serve l'altoparlante non vi servono chili e chili da portarsi dietro i piazzi in un angolo nessuno si ferma cosa fai invece i volantini nel taschino puoi mangiare anche nei centri commerciali attenzione alle videocamere e parla parla senza dare troppo nell'occhio alla videocamera del grande fratello gli dai il volantino e dici su e così e poi spostati non rimane lì davanti alla stessa via spostati un altro angolo al supermercato del centro commerciale io l'ho fatto a volte specialmente quando fuori pioveva allora andavo a evangelizzare lì ci vuole un po' di sale nella zucca va bene e non è difficile basta sorrisere prendi il volantino sorridi gentile non un sorriso sgargiante con uno che sta vendendo vendendifrici un piccolo un piccolo cerno di sorriso che il sorriso rilassa la persona che c'è davanti e dire al volantino questo per lei è spaccato il ghiaccio questo prende il volantino fa cos'è e allora poi ti fa guidarlo del spirito santo per esempio Dio la benedica siamo credenti io al più presto dico subito appena posso che non siamo religiosi la gente ha paurato vuoi cambiare il mio battesimo farmi diventare evangelico cattolico no no non ci interessa niente di queste cose non ci interessano il cristianesimo settario non ci interessa noi predichiamo Gesù Cristo la Bibbia il Vangelo e basta ma devi dirlo devi dirlo come tu dici subito devi dire non siamo religiosi perché la gente non vuole sentire niente di religioni di cambiare il battesimo devi dire a noi non ci interessa la religione infatti quando dici così subito prestano attenzione e piace e piace sentire questo infatti sto pensando a quel ragazzo che ha evangelizzato Giuseppe poco tempo fa che era tutto tatuato con capelli lunghi un ragazzo di 28 anni e quando l'ho visto ho pensato oh questo sicuramente è un osso duro dall'inizio tu hai detto non ci piace la religione le chiese e lui interessato super voleva sentire sono d'accordo neanche io voleva anche lui sapere di più e rimasto lì non se ne voleva più andare era un intellettuale di 27 anni persona intelligentissima e poi abbiamo saputo che il suo padre il suo padre era stato prete cattolico sua madre una suora cattolica che hanno lasciato i vuoti per sposarsi e lui è il figlio e ha detto sono cresciuta in una religiosità massima nella mia casa ha detto la mia casa è una chiesa ma dire i benedicchi che si sono sposati se non si è chiamato a fare il monaco di clausura o la monaca non ci sarebbero monache di Monza non ci sarebbero se li lascierebbero sposare la monaca di Monza lascia che si sposa comunque il giovane era stanco di religione e di sentire cose religiose e quando tu hai detto non siamo religiosi non ci piacciono le chiese questo ha prestando attenzione sì perché Gesù a lui piace però non sa come vivere Gesù come approcciarsi a Gesù e ha spiegato la relazione con Gesù ha pregato per ricevere Gesù con te ha pregato per ricevere lo Spirito Santo vuole incontrarci di nuovo quindi la chiave ha detto venite a casa mia sì ha detto anche quello ha detto venite a casa mia perché abbiamo parlato la sua lingua e l'unica chiave è stata parlare contro la religione gloria a Dio l'unica chiave guarda c'è gloria in lista di attesa volevo anche dire che quando abbiamo incontrato Adrian che l'abbiamo evangelizzato lui l'abbiamo incontrato per la prima volta la sua sorella è Battista perché lui era ammalato la sua sorella Battista l'ha portato in tante chiese tante denominazioni per pregare per lui tutte queste cose e quasi tutti le hanno chiesto di venire frequentare cambiare il battesimo e lui non voleva questo e mi ricordo quando con Deborah l'abbiamo incontrato per la prima volta l'abbiamo evangelizzato devo cambiare il battesimo l'abbiamo evangelizzato abbiamo pregato insieme abbiamo detto arrivederci ci siamo we split ci siamo separati ci siamo separati ho fatto cinque passi e lui mi ha he called me back ti ha richiamata e mi ha detto Dora una domanda devo cambiare il mio battesimo? mi devo battezzare in acqua e venire alla vostra religione? e l'ho detto no no Gesù non è una religione non ti devi battezzare ah ok va bene allora ci possiamo vedere di nuovo non devi sbattezzarti e ribattezzarti perché qui l'acqua minerale nella nostra chiesa è meglio dell'altra acqua minerale grazie grazie Dora grazie Gesù quindi usate questo approccio fratelli spiegare cosa è la vera religione e non è un edificio non è un battesimo non è una religione non devono sbattezzarsi né ribattezzarsi devono ricevere Gesù Cristo quale battesimo ricevuto il crocifisso a fianco di Gesù nessuno il battesimo di credere in Gesù c'è un altro lista di attesa chi è? I wanted to say something dice Gianni che voglio tornare indietro dove fratello Giuseppe parlava dei centri commerciali e di stare attenti con le videocamera devi sempre spostarti non stare in un solo posto se no ti cacciano fuori giustamente loro fanno il loro lavoro ma tu devi fare anche il tuo sì perché per fare qualche negozio nel centro commerciale devi pagare quindi non puoi dare i volantini così giustamente le telecamere fanno il loro dovere che sono ladri eccetera tu che sei missionario ma loro non lo sanno che sei missionario per cui devi avere pazienza dice John che c'è la storia di Richard Wombrand che voleva evangelizzare insieme ai suoi fratelli essendo in un paese comunista hanno pubblicato un libro con un titolo che dice la religione è l'oppio dei popoli cioè sembrava un libro che è in favore del comunismo ed era ma solo le prime dieci pagine e quindi il libro era chiamato la religione è l'oppio dei popoli e le prime dieci pagine parlava quanto è cattiva la religione e ha detto Richard Wombrand che andavano ai festivali per le strade e distribuivano questo libricino e il libro per essere distribuito doveva prima essere controllato dagli ufficiali del partito comunista e questi l'hanno controllato tutti contenti perché leggevano sempre le prime due pagine era sufficiente per loro e tutti contenti l'hanno passato sì, hanno pensato che è un libro buono perché diceva quanto è brutta la religione ha detto Richard Wombrand che dopo che hanno distribuito questi libricini dovevano sparire perché la gente cominciava a leggerli e prima di arrivare alla pagina 10 dove iniziava il Vangelo bisogna che loro erano a largo bisogna che sparire cioè non essere in vista più e sono andati anche a rallies communist rallies e delle dimostrazioni sono andati a dimostrazioni comuniste e i comunisti che prendevano i libri facevano a gara prendere di più e distribuirli perché avevano un titolo comunista però subito dopo i cristiani dovevano andare via quindi questo dimostra che non possiamo usare come scusa il fatto che non sappiamo come evangelizzare devi trovarti una strategia devi trovare un modo è capitato a me diverse volte questo è capitato a me diverse volte che andavo queste dimostrazioni e infatti se vedi i volantini che noi distribuiamo non sembrano religiose tutto tranne che religiose il titanico affonda e cose così abbiamo imparato che dobbiamo presentarli in un modo che la gente li prenda e tanti di quelli che li prendono che sono atei e anticristo magari alcuni di loro gli piace infatti ho avuto ricordo una volta c'era una dimostrazione erano proprio di sinistra erano comunisti tanti anni fa e ho distribuito un sacco di cose va bene e ho tagliato la corda ho cambiato aria perché se questi qua lo leggono prima che finisce il concerto e loro eccetera e mi sono sloggiato prima che arrivasse a lamentarsi con la speranza che qualcuno l'avesse tenuto in tasca amén amén insomma ti leggo un messaggio veloce da parte di Maria Rosa che dice buona domenica e pace a voi ieri sera ho evangelizzato dei ragazzi di strada ed uno dei ragazzi si è messo a piangere per come io gli parlavo nel nome di Gesù grazie Gesù e vorrei precisare che uno di questi ragazzi ha pianto e io poi gli ho dato un bacio sulla fronte e gli ho sussurrato Gesù ti ama grazie Gesù e Maria Rosa non è della loro età cioè lei ha più di 50 anni e lo so ha anche problemi con la gamba ammalata e guarda come raggiunge i ragazzi giovani c'è un modo di farlo devi solo dispararti e chiedere a Gesù di guidarti c'è un modo di farlo una piccola sorella che ha i suoi problemi l'amore ha trovato una via e l'immagine della mamma povera senza soldi abbandonata da un uomo disgraziato che se n'è andato e rimane solo magari un po' malata magari non ha soldi però è lì che si prende il cuore del bambino l'atta al bambino condivide il pezzo di pane vecchio della settimana scorsa e quell'immagine lì non ha importanza come siamo conciati mali l'amore trova una via grazie a Maria Rosa sei un esempio per tutti noi e gli ha dato un bacio sulla fronte un ragazzo che piangeva gloria a Dio un bacio direttamente da Gesù e da parte di un fratello credo che è meglio se non dico il nome sull'evangelizzazione dice cari fratelli che Dio vi benedica Cristian la mia esperienza personale ho evangelizzato in caserma tutti i miei colleghi essendo militare dove facevo servizio prima pregavo sui colleghi che avevano problemi con spiriti che li possedevano o semplicemente parlavo di Gesù una volta un mio collega aveva la piccolina in incubatrice che stava morendo gli regalai il vangelo e gli dissi di pregare sulla piccolina e la piccolina oggi è in forma perfetta gloria a Dio gloria a Signore poi non contento il Signore mi fa cambiare in carico e come di incanto quello che facevo per i colleghi ora lo faccio per i colonnelli ultimamente ho evangelizzato un colonnello ateo ho chiesto forza al mio Signore e come una goccia giorno dopo giorno sono andato avanti e infine il Signore ha rotto la sua cortina di ferro rendendolo più ricettivo verso il nostro fantastico Dio e notavo che quando gli parlavo delle scritture metteva un'attenzione mai vista prima fratellino Cristian una cosa devi avere credi e tutto diventerà possibile grazie di tutto fratelli che Dio vi benedica a tutti grandemente gloria Signore grazie a te per condividere bellissimo non c'è niente di più potente che predicare la verità in amore predicare il Vangelo in amore fantastica testimonianza quindi l'amore trova una via vedi questo fratello qui siccome era fedele nel poco evangelizzare in caserma e allora il Signore lo ha messo sul molto e come Giuseppe in Egitto era fedele nella prigione eccetera e Dio l'ha messo direttore della prigione era fedele anche lì direttore di Egitto Giuseppe va bene fratelli questo è il vero modo di fare carriera Salmo 75 dice la promozione non viene dall'Occidente e dall'Oriente la promozione viene da Dio grazie Signore gloria Signore allora questa praticamente quando stavo dicendo gli metti il volantino in mano e dici questo è per lei gli dici Dio la benedica siamo credenti cioè questa è già la metà della vittoria gli dici che non siamo religiosi e loro nel loro cuore decidono di dedicarti di ascoltarti un altro 30 secondi un altro minuto per educazione perché sei una persona tanto gentile affabile e persino interessante un cristiano che non è religioso un cristiano che mi predica contro gli edifici morti delle religioni morti o stramorti e ti ascolta e loro diventi sempre più interessante man mano che vai e loro il giancio è rotto per questo che alla radio voi non vi sorprendete se io non ho paura a sonagliare di cotte di crudo le religioni nelle strade era il mio cavallo di battaglia era la mia chiave per spaccare il ghiaccio non potevo evangelizzare senza dare qualche bordata alle religioni perché in effetti mica Gesù ci manda raggiungere i farisei o raggiungere i religiosi ci saranno anche religiosi che sono dolci ma non ci manda da loro non ci manda degli scaldapanche che sarangino ci manda dagli atei e gli atei cristiani la religione hanno fatto di tutto per rendersi odiosi e allora devi spiegare che noi non ci piacciono le religioni non ci piace la odisea sono tutti così no tutti così però si sono scaldapanche si sono più o meno tutti quelli che non non c'è uno che religioso che va in chiesa scalda le panche e che non evangelizza va bene che che è nella volontà di Dio sono tutti fuori dalla volontà di Dio va bene l'evangelizzazione è il metro di misura vedere se uno ha la volontà di Dio o no guarda Maria Rosa una sorella una certa età la salute la salute è così così e guarda guarda i suoi risultati perché l'amore trova una via guarda i non credenti sono terrorizzati di dover andare a sedersi fino alla noia su una panca religiosa dover seguire certi ritualismi dover ripetere preghiere con papagalli ascoltare prediche morte o comunque non motivanti le persone diciamo così normali virgolette normali di questo mondo perduto sono loro il nostro obiettivo gli atei le pecore perdute cioè la gente nelle strade che non va a sedersi nelle panche religiose a loro piacciono le notizie attuali di politica gli avvenimenti del momento le cose moderne che adesso le abbiamo messe sulla radio queste queste predicazioni che faccio alla radio le facevo nelle strade a volte in 5 minuti dovevo dare a volte però se è interessante mi davano un altro 10 minuti e allora spalancavo la Bibbia andavo Daniele 7 Daniele 8 Daniele 12 andavo in Apocalisse li portavo in giro per tutta la Bibbia e rimanevano scioccati quanto c'era nella Bibbia caspà questo è nella Bibbia e nessuno mi ha detto mai è logico sono troppo occupati a scaldare le panche e non te lo dicono la Bibbia è un libro miracoloso ameno oh ameno allora il testimone il evangelizzatore il saggio testimone sa cogliere l'opportunità discerne a che cosa una persona è interessata parla della gente nella strada per esempio lo studente conosce l'evoluzione quindi se sai parlare di qualcosa riguarda l'evoluzione parlagli di quello assicuratevi di non di non prendere parte di delle politiche di questo mondo non dovete difendere la politica di questo di quello non siamo di destra non siamo di sinistra fate sempre un equilibrio se state predicando contro le sinistre il marxismo assicuratevi di dire le destre sono lo stesso o anche peggio in altri campi sempre in equilibrio se no vi prendono fascisti quindi non difendete un partito politico non difendete una religione una religione umana rimanete sempre al di sopra sempre super partes nel regno di dio va bene vado al quarto passo mendicanti quando è possibile è bene aiutare i mendicanti ma a differenza molti ci hanno scritto come fare con i mendicanti vorrei aiutarli tutti come faccio abbiamo risposto ieri a elisa non puoi a differenza dal sud america che i mendicanti sono pochi pochi veramente pochi in italia in gran parte diciamo dall'occidente la maggior parte dei mendicanti sono di professione cioè non vogliono un lavoro neanche se glielo dai personalmente io evito quelli che fanno lunghi discorsi che hanno cento disgrazie cioè per me sono professionisti poi li guardo se stanno bene di salute potrebbero andare a trovarsi qualche specie di piccolo lavoro non c'è lavoro chi cerca trova non è vero va bene sono solo i lazzaroni che non trovano il lavoro lo trova dappertutto in un modo o nell'altro cioè io la mia offertina la do a quelli che discerno sono medicanti veri che sono un po' l'eccezione in occidente i medicanti veri sono un'eccezione di regola sono di professione gente che non vuole lavorare insomma ecco va bene anche qui in America ci sono quelli di professione ma pochissimi però pochi molto pochi va bene allora di solito le mie offerte le mie offertine la do a un vecchietto una vecchietta che l'ho vista l'immondizia qualcosa di simile allora vado di proposito anche se non mi vedono vado là e gli do l'offerta quella che non do agli altri la do a loro va bene e accompagnato da un piccolo Dio ti benedica e vado non è che posso fare uno studio biblico con ogni mendicante che incontro no va bene Gesù non l'ha fatto non è che si fermava ogni mendicante vediamo in Atti 13 andiamo in Atti 13 in Atti 13 c'è Paolo e Barnaba che evangelizzano a Cipro allora Paolo comincia il suo ministero in Atti 13 subito va 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 all'attacco nell'evangelizzazione dove vanno vanno arrivati a Cipro lì c'è una grande lezione qui possiamo imparare loro vanno direttamente da chi? vanno dal proconsule romano governatore dell'Isola non vanno ai mendicanti vanno dal proconsule il massimo vanno all'alto non al basso va bene aiutare tutti chi vi capia da davanti il mendicante l'offertina Dio ti benedica se a volte ti senti guidato puoi pregare prega per loro ma non è non è non è che cominci a evangelizzare dal basso sempre dall'alto cominci ma così ha fatto Gesù allora Paolo e Barnaba evangelizzano il proconsule romano questo qua si converte e Cipro diventa la prima nazione cristiana al mondo se fossero andati a iniziare una chiesa piena di mendicanti va bene sicuramente i mendicanti sono gente come gli altri certo ma non è che sono meglio degli altri però hanno bisogno anche loro di salvezza ma la differenza è che con i mendicanti che si convertono non puoi dopo inviarli a raggiungere gli altri perché nessuno li ascolterà nessuno si ferma quando un mendicante vuole parlarti esatto però invece se vai aggiungi dall'alto dall'alto i leader i capi quando evangelizzano tutti prestano attenzione perché sono i capi della comunità è logico qui per esempio in Sud America e noi che siamo europei qualunque fratello europeo che viene qui in Sud America si vede trattato come un pezzo grosso una persona importantissima perché sei bianco e qui il colore qui sono molto razzistico non è come in Italia tutti bianchi no non c'è razzismo in Italia va bene non c'è in Europa neanche tanto qui c'è molto non si vede ma c'è cioè il fatto che sei bianco si spalancano tutte le porte benissimo e questo facilita la tua evangelizzazione tu sei bianco tu sei l'unico che può evangelizzare i bianchi uno di colore qui praticamente non riesce a evangelizzare i bianchi perché pensano che c'è un secondo fine però tu bianco evangelizzi un bianco ti ascolta tu bianco evangelizzi uno di colore e dici oh che onore in India era lo stesso infatti è una cosa che quando arrivano qui i fratelli europei si vengono trattati come pezzi grossi sono un po' sorpresi i cazzi come mi trattano è così la storia è così c'è molto razzismo usalo per il Signore cioè usa il tuo colore per la tua opera di evangelizzazione perché così si spande il cristianesimo con l'evangelizzazione che si continua non solo la tua ma anche le pecore le che evangelizzi continuano a evangelizzare è così guarda quindi allora i medicanti dicevo non siamo chiamati a cercare i medicanti amarli come tutti gli altri non meno degli altri non di più degli altri perché sai c'è tanta politica e imbrogli e ipocrisia nel cercare i medicanti i poveri perché noi siamo cristiani siamo cristiani il medicante non è superiore non è che Dio ama il medicante necessariamente più di un più di uno studente va bene no viviamo lo stesso sulla medicatria e sullo studente puoi raggiungere i medicanti con i medicanti non puoi raggiungere gli studenti per esempio Dio benedica Madre Teresa di Calcutta per aiuto fisico verso i poveri va bene ma non è la strategia che Gesù ha usato lui non era un Gesù di Calcutta va bene e quindi Gesù e gli apostoli non hanno vinto il mondo guarda Luca capitolotto guarda cioè non hanno vinto il mondo con la strategia di Madre Teresa di Calcutta che lei a Calcutta ha raggiunto un gruppo di lebrosi un gruppo di poveri benissimo ma il suo problema di lei che si è fermata lì invece Gesù è andato oltre gli apostoli sono andati oltre andiamo a Luca 8 verso 3 Giovanna moglie di Cusa l'amministratore di Erode amministratore di Erode Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni Luca 8 3 Gesù che moltiplicava il pane e i pesci avevano bisogno con gli apostoli di essere sostenuti finanziariamente e di essere sostenuti con i beni della gente che loro evangelizzavano ma se tu ti concentri solo sui mendicanti gli dai e gli dai a un certo punto ti finisce cosa fai? non c'è più niente da dare? va bene? e allora cosa c'è Gesù? Gesù andava da tutti però per quanto riguarda la priorità gliela dava ai leader ai capi a quelli che erano ricchi non di soldi ma di talenti di capacità mentale di capacità di talenti creativi insomma di leader va bene? quindi Gesù evangelizzava l'amministratore di Erode e questo è un pezzo grosso in Israele uno dei più altolocati in Israele Filippesi 4 andiamo lì lì vediamo che Paolo seguiva lo stesso esempio di Gesù va bene Filippesi 4 22 i fratelli che sono con me vi salutano tutti i santi vi salutano e specialmente quelli della casa di Cesare Filippesi 4 22 chi è questo Cesare? quelli della casa di Cesare quindi chi è? quali Cesare sta parlando qui? beh il fatto che se tu leggi i libri della storia cristiana era risaputo come scrissero appunto gli storici Giuseppe Flavio e Jerome che la imperatrice Poppea o Poppea l'imperatrice Poppea era favorevole al cristianesimo lasciate per dei film che hanno fatto su Nerone eccetera l'imperatrice Poppea era favorevole al cristianesimo quindi ecco che Paolo raggiunge la casa di Cesare va bene e allora Paolo come sempre mirava a iniziare l'evangelizzazione di Roma come ovunque andava voleva raggiungere Roma partendo dall'alto dalla casa di Cesare e dall'alto verso il basso è così che si vince non vinci partendo dal basso amare tutti evangelizzare tutti è fuori discussione è logico tutti che ti si prendono davanti evangelizzi però il piano la strategia di raggiungere una città una nazione il mondo devi partire dall'altro va bene i discepoli di Gesù non avevano le ricchezze del mondo non erano governatori amministratori di erode però erano ricchi di cosa? di talenti e di capacità avevano delle ricchezze di liderato di leadership grandissime infatti hanno vinto al mondo quindi erano gente Gesù inizia con loro la conquista mondiale e loro danno il via a conquistare i popoli del mondo hanno acceso la scintilla il fusibile e la bomba del cristianesimo è esplosa in tutto il mondo quindi non abbiate paura fratelli di evangelizzare non lasciate che il diavolo vi condanni perché non ho costruito una chiesa piena di mendicanti non è così che si vince il mondo i medicanti hanno i diritti di tutti gli altri non di più uguali agli altri e anche loro hanno richiesto che si danno a fare evangelizzare altri medicanti se non possono evangelizzare altri quindi fratelli io mi sono sempre concentrato e lo faccio ancora quando posso vi consiglio cercate tra gli universitari la gente di talento gli intellettuali i professionisti perché i poveri tra i poveri non possono facilmente raggiungere come diceva Angela questi leader naturali cioè questi leader potranno raggiungere i poveri quando vorranno partendo dall'altro ma i poveri partendo dal basso si bloccano così si fa la conquista del mondo per Cristo quando sono arrivato in Peru era la prima volta che sono andato in Peru era la seconda volta che ero in Sud America era nel 1982 e lì c'erano dei fratelli che mi ha spiegato dice guarda qui noi che siamo bianchi riusciamo a evangelizzare i bianchi i fratelli di colore non possono va bene un fratello di colore da un volantino a un bianco e questo bianco lo guarda dall'alto in basso siamo noi bianchi che dobbiamo raggiungere i bianchi e io lì per lì non capivo perché in Europa non c'è questo atteggiamento qui c'è va bene e quindi c'è questa è come una casta sociale in certo senso infatti quindi non abbiate paura di mirare all'alto va bene e logicamente il Vangelo si dà a tutti nei quali ci imbattiamo ricchi o poveri una domanda su questo proprio da parte di Kelly dalla Colombia è arrivato adesso dice benedizioni fratelli una domanda nel mio caso essendo nera la mia evangelizzazione porterebbe limiti per raggiungere le pecorelle un abbraccio forte dunque dipende dalla tua fede e adesso presentato non sto presentando questi problemi razziali per scoraggiare ma perché non vi sorprendiate va bene e perché se siete bianchi approfittate del colore ho sempre lavorato con qualunque missionari anche americani completamente neri africani però erano americani e non ho fatto nessunissima differenza in India fratelli indiani di colore fratelli meravigliosi e vorrei dire più vicini al Signore di tanti di noi bianchi sto solamente avvertendo i vantaggi e i svantaggi ora se tu sei se sei nero di colore in base alla tua fede ti sia fatta ci sono fratelli missionari neri americani che evangelizzano i bianchi e se la cavano bene non vanno con l'handicap sono nero e ci hanno successo anche molti più di bianchi quindi è buono come dice Kelly va bene non lasciatevi tu vuoi essere grasso corto piccolo eccetera però se hai la fede va bene Geremia ha vinto solo un discepolo in 40 anni di evangelizzazione ed era Baruch che non era neanche ebraico va bene quindi non vuol dire niente Ruth va bene l'antenata di Gesù Ruth era una moabita non era neanche ebraica diventata l'antenata di Gesù Rab non era israeliana era una una prostituta che esercitava la sua libera professione a Gerico e così via non cioè l'uomo di fede tramuta i suoi handicap le sue stampelle in trampolini va bene non usare le nostre le nostre manchevolezze o magari il colore sbagliato nel quando un posto che possono essere razzisti Gesù non era bianco ok era di colore era il tipico ebreo ebreo sono gli arabi gli ebrei ebrei e israeliani sono mezzi fratelli sono tutti e due figli di Abramo ebrei e arebi hanno il stesso colore una volta adesso ci sono anche biondi occhi azzurri capito quindi non usare queste cose come come scusa va bene va bene va bene allora una cosa che c'è da notare la sinistra politica vediamo che le sinistre nel mondo si sono concentrate a raggiungere gli studenti nelle scuole i giornalisti a raggiungere le televisioni gli intellettuali lo vedete la RAI in Italia è tutta è tutta di sinistra Lilly Gruber e compagnie sono tutti comunisti marxisti di sinistra quasi tutti e quindi quasi tutto il mondo ormai di sinistra perché perché hanno avuto l'intelligenza che i cristiani non hanno avuto in genere di raggiungere gli intellettuali di raggiungere le scuole gli studenti universitari cioè i marxisti atei e le sinistre atei hanno avuto questa intelligenza che i cristiani non hanno la maggioranza loro vanno dimenticanti vanno dei poveri vanno da Calcutta e fanno madre Teresa di Calcutta hanno fatto una santa ma è anche giusto perché la Bibbia dice di aiutare i poveri Teresa non è che ha predicato tanto Gesù è quello predicava le opere predicava aiutare la gente fisicamente se no non siete cristiani non è che sono molto d'accordo ma lo facciamo anche noi aiutiamo le famiglie poveri ma non solo non solo quello non era il modo che Gesù evangelizzava cioè madre Teresa di Calcutta non sarebbe stata una buona discepola di Gesù perché avrebbe dovuto evangelizzare nel nome di Cristo di Gesù e il Vangelo e non solamente i lebrosi di Calcutta c'è qualcosa di sbagliato no va bene si sente contenta così sta facendo del bene però non è che la fare una santa al di sopra di altri va bene io mi ricordo che quando andavo in un nuovo paesino mi ricordo andando in un nuovo paesino spesso andavo direttamente dal sindaco molte volte facevo così e ho trovato che gli impiegati del municipio erano tra i più ricettivi infatti le religioni tradizionali hanno paura di evangelizzare questa gente qua e così così anche riguardo raggiungere attori cantanti politici ministri mi ricordo era il 76 a Roma stavo evangelizzando la stazione Termini c'era una fila di gente che aspettava il taxi e in fila che ti vedo Bruno Vespa quello della Rai svelto guarda lui prima che se la sbaglia era lì in fila aspettare il taxi e comincia a parlargli gli offro materiale del Vangelo io ti benedica lui diciamo non è stato altrettanto entusiasta insomma fare i suoi insomma io dovevo fare la mia parte va bene Zechiele 3,17 insomma mi ricordo cioè che io ringraziavo il Signore quando capitava un sindaco un ufficiale dobbiamo sempre andare in alto non abbiate paura fratelli di affrontare affrontare i vostri giganti va bene affrontate i giganti nel nome di Gesù otterrete otterrete anche vittorie va bene il Vangelo il Vangelo contiene un grande ordine va Vangelo va Vangelo non è Vangelo se non va se non vai inutile lamentarsi che il paesino dove siamo sono duri troppo duri sono capri anticristo sono eccetera eccetera ma cosa serve lamentarsi in Israele in Israele erano un popolo di capre andiamo Giovanni 1 sì Giovanni 1 reggi verso 11 Giovanni 1 11 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto Giovanni 1 11 Giovanni 3 Gesù va a casa sua non lo ricevono era un popolo di capre d'accordo verso 32 verso 32 dice egli rende testimonianza di quello che hai visto e udito ma nessuno riceve la sua testimonianza Giovanni 3 32 allora cosa fa Gesù si scoraggia va a cercar se continua a cercare le pecore si lamenta tutti i capri qui cosa faccio me ne ritorno in cielo qui non mi ricevono padre telefono si cerca una dozzina di fanatici si cerca dei radicali degli estremisti che tutto erano tranne che religiosi della camomilla domenicale e allora con questa sporca dozzina proverbiale sporca dozzina cosa fa Gesù vince tutto il mondo va bene con una dozzina di gente che nessuno li considerava niente però erano ricchi di talenti non si vedevano li avevano allora il vero pescatore i pesci li va Angela a pescare a pescare li va a pescare li va a cercare cercate troverete sì che i pesci non saltano fuori dal mare nella vostra tasca dovete andare a pescare oggi le religioni mettono le reti che si chiama edificio religioso morto e dicono preghiamo che i pesci saltano nella rete no 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 cioè uno che va a caccia di orsi di gazzelle dovete avanzare con il fucile puntato ecco che sta vicino all'orso orso vedi questo sì è un fucile e adesso io ti sparo e l'orso dice ah che bello prego mi metto in posa uno due tre faccia a fuoco cioè è così che si va a caccia no 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 ma siamo impazziti scusa devi usare saggezza è così che le religioni vanno a pescare vanno a pescare e se il pesce mi cade in mano ok se no è stata una brutta annata e no caro il vero pescatore si alza di notte e parte va bene va bene c'è anche una bella canzone di Marocchi su questa no sì ecco si alza di notte il pescatore e va solo nel buio lascia la moglie il letto caldo ciao tesoro mua mua un paio di baci la moglie dice oh io ti benedica che Dio benedica la tua pesca e vieni carico perché ho pronto la padella per friggere prega per un pescatore cristiano no insomma quelli che tra di noi saranno fedeli cos'è che Gesù vai a Matteo 25 23 Matteo 25 23 cos'è che dirà Gesù a quelli di noi che saranno fedeli il suo padrone gli disse va bene servo buono e fedele sei stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo Signore capito Matteo 25 23 capito vogliamo ascoltare questo del Signore vogliamo vogliamo sentire servo malvagio cos'è fatto con i miei talenti io l'ho sotterrato guarda l'ho sotterrato sotto la sabbia una sabbia sabbia mattoni cemento finestre mura una croce in cima va bene per cortesia fratelli usciamo dalle trappole se siete in una barca sfondata affondata che si affiora solamente 20 centimetri dall'acqua abbandonate così le barche religiose abbandonatele seguite Gesù andiamo a cercare le pecorelle grazie nel nome di Gesù come bravi pescatori ecco come bravi pescatori per caso c'è quel canto si preparalo sul primo binario che adesso vado io posso chiudere qui si devo dilungarmi no va bene così ho toccato i punti principali spero di si fratelli inviate delle domande se avete ecco mandate delle domande così che Angela avrà domande da fare si allora nel nome di Gesù Cristo grazie Signore Gesù siamo pescatori venite dietro a me vi farò pescatori di uomini questo è un bel canto di Marocchi capite un parallelo vi parlo di pescatori di pesci materiali io parlo di pesci spirituali quindi quando ascoltate sto canto adesso immaginatevi voi sulla barca di notte o di giorno ma di solito di notte solo solitario a volte uno due non so quanto è grande la tua barca va bene la moglie a casa che dorme i figli che dormono il pescatore va nel nome di Gesù Cristo il pescatore Amen un pescatore sta prendendo il mare con la sua rete fatta con amore con sudore un pescatore sta prendendo il mare e parte sempre con la pioggia o con il sole e non c'è giorno che non tocchi il mare finché il mondo girerà correndo intorno al sole ogni vita avrà sempre un pescatore in piedi sulla barca sembra proprio Dio che getta la sua rete potrei caderci anch'io nella sua rete grande grande come il cielo cattura mille vite anche quelle in volo lì ci sarà pianto e d'amore la gioia e il dolore e la sua rete raccoglierà il tramonto finché la barca piena non sarà e piano piano guadagnerà la riva ed ogni pesce buono sceglierà e qualche volta uscirà la notte ed in silenzio la rete getterà finché la luna risplenderà sul mare ogni vita avrà sempre un pescatore in piedi in piedi sulla barca è proprio come il dio che getta la sua rete potrei caderci anch'io con la sua rete grande grande più del cielo cattura ogni creatura in terra c'è chi avrà pianto e dolore o gioia ed amore o o o o o o Grazie a tutti.